Dai Evie chiama l'Antea, tutto silenzio adesso, giusto che stavo facendo un filmetto e questa c'è la goduria tu la stai grattando andare dietro là che ci sono tutti i fili si è pericoloso pure mi ha spaccato il caricatore del computer della mamma dove c'è la presa da mettere dentro appena esce il cavo se l'ha mangiato l'ho trovato così nell'altro giorno già l'avevo un po rovinato già ho messo lo scotch e posto poi sono tornata il giorno dopo aveva tolto un po' lo scotch e il cavo era praticamente aperto se lo tocchi faccia di là e non so come lei non l'abbia presa la scossa però va bene l'avrà anche presa ma mica te lo può raccontare ma cosa stai mangiando? è una spira bricioline lei è una spira briciole vieni qua dai finchè non ha finito di pulire dai poi ci diventi cicciona vieni qua va fuori del caso tutti i pavimenti che vedi tu sei comoda guarda giura un secondo vuole venire si è incontorsionista vai basta sei comoda no 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 lì non si va vieni qua vieni pericolosissimo guarda la gianna no dai dai prendila 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 si ruoli trova una cosa perchè mi da chi sta ruoli? vai prendila prendila vieni scappi prenditi i grappili dai 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 piano 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 Piennino, è un teo, che lei è piccola. Mi sapevo, guarda che la nuova si prova, adesso. Ma è una nuova vita. Adesso non mi caga proprio nel fuoco. Eh no, non si abbaglia, non si abbaglia. Ecco qua, vuole rimanere le mie gambe. La cosa? Non t'ha fatta la pepe in giro, vero? Non lo so, è andata in camera, dopo vado a controllare. Però sì, prima l'ha fatta, quindi non dovrebbe... Di qui? Di qui. Eh, io. No, non ho niente in mano. Però vedi, lei si alza se viene da te. Vai, vai, prendila, prendila. Prendila. Si è rimanza. Piano, che tu con quelle zampone... Quella già scappò, ma... Si, qui non riesco manco a... Vai, vai, salva la situazione. Beh. Tanto la piattola non c'è. Dove che si fa male? Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Qua c'è l'eco, qua c'è l'eco. No, non la bagliare, qua che me la ricoglionisci. Andiamo di là. Madonna, mi ha tolito un timpano. Basta, mi fa male il dito. Ragazzi, salutate tutti che chiudo le trasmissioni. Basta, basta. Il piano, anteasca. Anteasca. E salta poi. E salta. Ma che c'è l'uomo? Madonna, il timpani. Basta, basta, basta. Ma io... Questa mi sa che giocare. Lei? Allora, se finisca la domanda, ciao.